Qual è il risultato di un lavoro di campo? Qual è il risultato di un lavoro di campo? Qual è il risultato di un lavoro di campo? Qual è il risultato di un lavoro di campo? Qual è il risultato di un lavoro di campo? Qual è il risultato di un lavoro di campo? Allora a questo punto quando tutti gli insetti, i giovani, saranno sulle foglie dei ricacci bisogna andare ad intervenire rimuovendo questi ricacci con un decespugliatore, con una zappa, con una forbice. In questo modo elimino sia i ricacci che i giovani presenti sulle foglie. in pratica ha operato come una trappola alimentare. Il manuale quindi raccoglie una serie di schede tecniche corredate di fotografie che descrivono le principali caratteristiche delle zone incolte a cui un agricoltore o un tecnico si possono trovare di fronte e propone una serie di interventi atti al contenimento della vite selvatica in queste particolari condizioni nel rispetto del quadro normativo nazionale e regionale. Il manuale si vuole porre come uno strumento di lavoro per gli agricoltori, come una opportunità per la viticoltura nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio con delle metodologie a impatto ambientale nullo.